Cosa stai facendo Chip? Il bareto, porto via o no? Zuma, zuma Ehi! Ma penso che tagliarò questa parte E quindi devi usare scarpe rosa? Con le vece Quelle distrutte Eh, non mi inquietina Eh, no Comunque il parcheggio è bello pieno Per la ferata a Tridentino Eccola qua, Tridentino Ma perché ti ho poteri vissuta che sono 3,20? Vediamo Vediamo se sarà La scopriremo presto Ciao No, voce lo da l'altro Ok Mi scelmo che hanno altri, cosa dico? Yes, vada, vada Che siamo? Molte No, voce lo da l'altro 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 Francesco, buongiorno io sono Francesco No ma vai tranquilla che faremo un video su youtube con questa ferrata va bene C'è che finisce su youtube non penso che avrò l'audio stavolta perché sennò mi banna sempre il video comunque c'è un po di gente Ragazzi vorrei dire che sono avanzata quasi di due metri cioè Vedi google tra un po' che vibra e dice sei morto Top Stavo facendo un video Ah quindi posso proseguire Si puoi proseguire C'è un po' che C'è un po' che è in rifugio che arriviamo Tra l'altro dai tagliarevi qui No col panino da mangiare non posso Ciao Elena Quindi praticamente la coda è stata fatta perché le tesi si fa la coda sul ponte? Eh forse Credo proprio che si Sennate come prima Esatto Finchè spettiamo Bello Madonna che Non pensavo fosse così bassa Non pensavo fosse così bassa E' in una paratina Questo se ne accorga bello E' figata E' figata Pazzesco Eh c'è più se ne ha perso una roba mia Tanto figata Ma mi va appena su per questo Cosa ne dice Elena Si? Molto bello Finita Poi Devi tirare la capolara Ancora il fatto Pissà Ancora Bonn giorno Vai e 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.